presentato a pompei un anno da chef il calendario che nelle 12 pagine mensili riproduce la foto di un famoso chef campano la sua visione della cucina una ricetta e la griglia dei giorni personalizzata l'idea è nata dal fotografo gianni cesariello e dalla giornalista allegra ammirati che hanno voluto in copertina per la loro prima edizione l'ambasciatore della dieta mediterranea lo chef alfonso iaccarino titolare del famoso ristorante don alfonso 1890 a sant'agata sui due golfi gli altri protagonisti dei 12 mesi sono aniello abbagnale angelo borghese ciro campanile gianmarco carli endoni di lieto marco di martino maurizio di rocco paola fiorentino alberto fortunato petronilla naclerio giovanni sorrentino giorgio vitiello l'evento è stato presentato nei ristoranti il principe di pompei in una serata dove si sono raccolti 13 protagonisti insieme ai curatori del calendario sono tutti fenomeni che fanno solamente bene al nostro settore anzi dimostrano alla gente l'entusiasmo l'impegno di tanti bravi giovani che dedicano a questo lavoro che non è un lavoro semplice noi mangiamo tutti i giorni è vero tutti possono giudicare tutti possono perlomeno capirne di cibo perché è un rapporto quotidiano però fare professionisti come si stanno preparando questi giovani è molto lodevo questo mi fa ricordare quando io tanti anni fa spronavo i ragazzi andare in giro a capire a vedere è questa data dei risultati non per quello che avevo detto ma quello che speravo quindi siamo in un momento molto positivo per la ristorazione campana insomma possiamo dire che la ristorazione è un volano economico per l'intera regione campania certamente se è presa in considerazione di chi ha la responsabilità di gestire il territorio di gestire la politica del territorio e capiscono l'importanza di questo settore io mi auguro che loro lo capiscono e quindi certamente si faranno grossi passi il futuro è questo